Ciao ragazzi, salve a tutti, bentornati in questo nuovo video dove oggi vado a completare e quindi a farmi perdonare l'errore di qualche giorno fa. Infatti, se vi ricordate, qualche giorno fa avevo creato un piccolo contest dell'emote schianto terrestre e avevo scelto i primi 5 in ordine cronologico e per mio grande, grandissimo errore ho sbagliato con Giulio Vanin e quindi gli ho proposto di mandarmi l'amicizia e che mi sarei fatto perdonare in un qualche modo, quindi l'unico modo che posso farmi perdonare è mandare una piccola emote come scusa per essermi sbagliato e non averlo inserito all'interno del contest quindi andiamo subito all'interno del game e andiamo nel negozio oggetti andiamo a scegliere un emote da dare al nostro Vanin 95 posati ragazzi mi sembra veramente... no, 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 non posso, no, è brutta, è brutta, è bruttissima allora vediamo un pochettino senza sbilanciarci troppo vediamo un po' stile ninja, stile ninja così famoso piace quasi sempre a tutti vediamo un pochettino se il Vanin ha questo... non ce l'ha ragazzi quindi andiamo a farci perdonare l'errore che avevamo commesso qualche giorno fa è l'unico modo che posso per farmi perdonare io ti mando immediatamente questo piccolo regalo spero che sia di tuo gradimento e adesso sei in possesso di questa emote spero che ti piaccia questa emote e che io abbia scelto bene un qualcosa che ti possa far felice è un'emote secondo me bellissima va bene, io ragazzi vi saluto e ci vediamo al prossimo video